Questo per dirvi che internet ha ormai cambiato la nostra vita, è la più grande rivoluzione che abbia riguardato l'uomo da quando è nato. Ma come tutte le rivoluzioni, internet ha dei costi e dei benefici. Costi che possono essere sia di natura legale che di natura economica. Ma cerchiamo anche di prendere i lati positivi di internet, ad esempio le possibilità di guadagno. Internet si regge su tre lettere, A, D, D, Advertising, cioè pubblicità. Questo è il progresso, direbbero gli americani. E guardate, il progresso non ha etica. Non esiste un progresso buono, un progresso cattivo, un progresso giusto o un progresso sbagliato. Il progresso è un dato di fatto. Ma voi invece, se vi girate dall'altro lato e fingete che internet non esiste, vi state buttando dalla finestra?